Un 22enne di Montesano sulla Marcellana è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Padula. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo avrebbe perso il controllo della propria vettura, forse per evitare un cane, concludendo la sua corsa contro un edificio situato a pochi passi dal bordo della carreggiata. L'impatto è stato letale per il giovane. I soccorsi, arrivati in pochissimo tempo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 22enne. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina e i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. Il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ha annunciato che verrà proclamato il lutto cittadino. Quando un giovane ci lascia, ha scritto su Facebook il primo cittadino, tutti perdiamo un pezzo di futuro. Il primo pensiero che deve trasformarsi in grande vicinanza, sostegno, forza, va alla famiglia, letteralmente prostrata da questa tragedia.